TAC o pompa caricato? Questa è una domanda che tutti qua ci siamo chiesti con l'inizio di questa season Io avevo scelto il TAC Ma oggi ho voluto dare una possibilità al caricato E devo dire che non mi ha per niente deluso Ok ragazzi stanno pushando il nostro teammate scarso Ovvero Pippo con lo fake E' davvero molto nabbo Ma mai quanto me Perché c'ho una mira del c***o veramente oggi Gigi Pippo con lo fake 30, 30 Ma poi fa 30.000 E' quello fake sta pushando E' aggressivo Guarda che sta pushando E' fino a ora non pushiamo noi Ma sono bimbi rampino Sì questi sono aggressivissimi 100,100,100 40,50 Terra Terra Daniel, Daniel ma si fa pochissima vita a non farmi Sì, sei sti c***o Poi ti restiamo Mi ha più presa Eliminato Ok ragazzi andiamo in safe Le hai scesi tutti quanti Pasqua? No, l'altro è scappato perché c'è la rampina Ok Andiamo Vediamo il charge flash E voliamo in safe Il tipo con rampina qua 31 blu, 31 blu, 31 blu, 31 bianco 31 bianco Let's go ragazzi Let's go Un bel Bump a viola per me Un tac blu, una jump Shieldini E tanta tanta roba Andiamo a fare un reboot Andiamo a fare un reboot tattico Pasqua Come non detto Stanno già facendo un reboot tattico Tipo quello fake Mi dispiace Ma sei morto Ragazzi abbiamo gente davanti a noi Sono un team molto aggressivo Da quel che vedo Non tantissimo però Oh ragazzi Sì, sono andato uno Con il mio pan pozzo viola Terra Uh ragazzi Ho saltato la granata In una maniera incredibile Stavo per esplodere Non so quale dio Mi abbia blessato Però se no È il nostro terra Quello là Allora è stato qua Pasqua, veloce Vieni Allora stavo Ok Ok Non sono più caricando Va, va, va Mo, mo, mo Mo diventa 50, 50 Dio Dio Bamba scarico Lo ricarico Ok A terra Ok ricarico Il pompa Dio mio quanto rompe Questo qua A terra Let's go Ragazzi Let's go Un bel caricato viola Per noi Un loot Della madonna Adesso Stavo contento A caricare il caricato Allora invece Oltre 4 colpi Non ci va Quello è il medio Che ne è 5 E direi che possiamo Andare in safe Non prima però Di aver nuttato I materiali Da questi qua E andare full Direi davanti a noi Pasqua 32, 32, 32 Rattor shield Entrivi scotte Va Sparagli 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 Non farlo curare Bravo A terra 6 E sono caduto E sono caduto giù 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 Si salgo un attimo E tra poco giù Che boxing Andrò A terra 1 però Dio mio Beh Sì Jupiter Vabbè Oggi Oggi Mi sono fatto F*** Giù Io prendo questo Logrand Che comunque Mi salverà Dai Dai Una cicola E una cicola Eliminato Hai 2 di 2 Che è 1 di 1 Dio mio Com'è affatto A prendermi No Le scorregge No Managgia La miseria Ho tolto dei mazzi Ragazzi Scusate se parlo Poco ma sono teso Perché Oltre al fatto Che c'è una connessione Di m***a Ho anche Una vita Del c***o Mi intendo In quanto a salute Scusate 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 1 di 2 E 1 di 1 E 1 di 1 E 1 di 1 Let's f***ing go Non sottovalutare Il caricato Non lo sottovalutare Perché qui con il tattico Avrei perso Lo spawn del game Cosa ho detto Lo spawn del game Non lo so Ma è stato davvero Una bella vittoria Non so se vedete Un'altra partita Ma se la vedete Passiamo subito Alla prossima Ok ragazzi Partita numero 2 Scendiamo subito Lo yacht Troviamo un caccia Ragazzi L'anima di Minecraft È con noi Proviamo a cerchionare Ragazzi C'è una che palla Che palle C'è un casino di gente Ok Io mi tiro questi shieldini Dovamo spegnere la musica Assolutamente Che uno può Vedete non si capisce più niente Qua Che è spento la musica C'è un tipo Acqua davanti a noi Ragazzi No mi sa che io muoio A terra qua Mamma viene distrutto Con l'arpione Ragazzi Vediamo Nel fiocino 127 Ucciso Bravo Bravo Pascual Bomba lo prendo Andiamo Stai attento Arrivo L'arrivo A terra 69 Nice Ho finito i colpi Pompà Vieni qua Iniziamo No loro C'hanno il tac Pascual Dammi i colpi Pompà Veloce Veloce Chiudi Dammi i colpi Pompà Ottimo Wow Vabbè Meglio di niente Sì sì Sto con me È one shot 34 Ottimo 40 a terra C'è uno qua No 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 Ok Let's go Ragazzi Let's flipping go L'avevano devastati Questi qui Tipo con lo fake E' morto Ci dispiace Assolutamente no Però non andiamo a reanimare Perché potrebbe Aiutarci a formare Ok ragazzi Piccolo recap D'azione Siamo in questa safe Di due persone Che tutta acqua Fa sbocchiare Abitutto C'è un team lì Che ci sta cecchinando Voi non fate Troppo a cecchinare Perché se ci prendiamo L'headshot È brutta roba Deveva buttare Tutto lo shield Che ho io Ma no Ci stanno a pussare Però No è down Non ti sei Non ti sei Stanno a pussare Stanno a fai il paino 86 Rotter shield 18 18 E' white Qua sbagliata Qua si rotto lo shield Tiro la granata Tiro granata Scema Poi mio tiro Mi ho fatto cagare in mano Scendo Ottimo A terra E' white E' white Cavolo dietro di me Holy shit Holy shit Dai dentro Questa qua La renega La renega E' ancora riva Non so come Non so come Quelli Lì sopra Guardati Ottimo Sì attento Questo con l'attacco Continua a spammare A terra A terra A terra Ok No Non posso Amare Bravo No Che palle Ma ripo con lo fake Sì ho pochissima vita Vabbè No da sopra Quarto posto Non so Chi mi abbia ucciso Sinceramente Ma non puoi vedere Chi mi abbia ucciso Andrò a vedere Nel replay Allora Questa è una bella Seconda partita Dai Se l'avete vista GG Però ragazzi Se vi è piaciuto Se fosse stato così Mi ha piaciuto Un bel like Condividete il video Con i vostri amici Iscrivetevi al canale Se sei nuovo Se vuoi supportarmi Poi usare il mio codice creatore KT A bretino basso Celeste Nel negozio oggetti Quando c'è più qualcosa Mi raccomando Fai la foto E mandamela su Instagram Che la posterò Nelle mie storie Detto questo Ti ricordo che se vuoi giocare Con me Puoi aspettare le live Che alle 7 e mezza Facciamo creativa E giochiamo tutti insieme Oppure puoi abbonarti al canale E giocare anche quando non sono in live Io spero di diretti Un prossimo video Bye bye